Adesso mi starete chiedendo a cosa raffigura questo gioco. Che cosa rappresenta Stanley Parable? Non c'è un'assoluta certezza. È un gioco o non lo è? È arte? O è semplicemente una raffigurazione satirica dei giochi artistici? È semplicemente una storia di un personaggio e il suo narratore, di cui sono perpetuamente cercando di controllare l'un l'altro? O è semplicemente un quarto d'ora di pazzia e divertimento? Quindi il punto è questo. Stanley Parable è un gioco, ma non è un gioco. È arte, ma non è arte. È narrativa, ma allo stesso tempo c'è più azione. Questo è quello che hanno cercato di creare questi che hanno programmato il gioco, o la mod di Half-Life, per così intenderci. Hanno semplicemente cercato di anteporre una specie di punto interrogativo perenne nella persona in cui si cimenta in questa specie di programma o gioco. O di esperienza. La si può intendere proprio così. Non è tanto un gioco, non è tanto una storia quanto un'esperienza. Stanley Parable. Quindi, ne vale proprio la pena. Mantiene davvero tutta questa gioia. Penso che la cosa valga solo per alcuni tipi di giocatori. C'è gente che preferisce sparare. C'è gente che preferisce molta più azione nel gioco. E c'è gente che piace stare calmi, a guardare la propria esperienza, a svolgersi davanti ai loro occhi. Questo è ideale in Stanley Parable. Chi cerca azione, o chi cerca un gioco che abbia una finalità, o semplicemente un punto fermo, qualcosa che dica, ecco, è finito, non lo troverà in questo gioco. Però, in tutto rispetto, trovo che sia un titolo che merita di esistere, merita di essere preso. Merita la sua contribuzione, insomma. Ha avuto il suo successo e spero ne abbia ancora. In tutto rispetto, non so se faranno mai un altro seguito, eccetera. Spero di sì, spero di no. Ma anche perché un seguito cos'altro potrebbe avere? Altre scelte? Ha già tutto quello che vorremmo vedere. Ha già... Ha già della satira su quello che riguarda i giochi sociali. Ha già una satira su quello che riguarda tante cose. Una satira su personaggio e suo narratore. Una storia. Quello che riguarda un sacco dei fattori di oggi su storie e videogames. Ha già tutto quello che può rappresentare. Quindi, cos'atto c'è nello Stanley Parable se no? Un cerchio che continua a girare su se stesso. Fino a che non ci sia una fine. Che appunto non esiste. Quindi sì. Per me questo è un gioco da prendere. È un gioco da prendere soprattutto per i suoi significati. I suoi parecchi significati. E appunto molti di questi significati si possono, si possono assolutamente formare a nostro piacimento. Non c'è una certezza. E questo è uno dei tanti punti di questo titolo. Non c'è una certezza. C'è solo noi. La nostra teoria sullo Stanley Parable. Ce ne sono parecchi in giro. Ma se cerchiamo un gioco con un finale, cerchiamo un gioco con dell'azione, no. Non si trova, no. Non si troverà in questo titolo. In tutto rispetto, è un acquisto che è abbastanza indovinato secondo me. Soprattutto quando ci sono i sales, poi. Figuriamoci. Al prossimo titolo.